Salve amici. Oggi annunceremo alcuni treni dalla stazione di Napoli Campi Flegrei. Il treno regionale 21-2-6-0 di Trenitalia, delle ore 5, per Villa Literno, è in partenza dal binario 4. Ferma. Cavalleggeri Aosta, Bagnoli Agnano Terme, Pozzuoli Solfatara, Quarto Di Marano, Giuliano Qualiano. Il treno regionale 21-0-1-4 di Trenitalia, delle ore 5.05, per Pozzuoli Solfatara, è in partenza dal binario 7. Ferma. Cavalleggeri Aosta, Bagnoli Agnano Terme. Il treno metropolitano 21-3-8-5 di Trenitalia, delle ore 5.17, per Castellammare di Stadia, è in partenza dal binario 4. Ferma in tutte le stazioni. Il treno metropolitano 21-0-2-7 di Trenitalia, delle ore 5.23, per Napoli San Giovanni Barra, è in partenza dal binario 6. Ferma. Napoli Piazza Leopardi, Napoli, Mergellina, Piazza Amedeo, Napoli Montesanto, Piazza Cavour, Napoli Piazza Garibaldi, Napoli Gianturco. Il treno metropolitano 21-0-2-9 di Trenitalia, delle ore 5.39, per Napoli San Giovanni Barra, è in partenza dal binario 5. Ferma. Napoli Piazza Leopardi, Napoli Mergellina, Piazza Amedeo, Napoli Montesanto, Piazza Cavour, Napoli Piazza Garibaldi, Napoli Gianturco. Il treno regionale 21-0-1-8 di Trenitalia, delle ore 5.45, per Pozzuoli Solfatara, è in partenza dal binario 3. Ferma. Cavalleggeri Aosta, Bagnoli Agnano Terme. Il treno metropolitano 21-0-3-3 di Trenitalia, delle ore 5.46, per Napoli San Giovanni Barra, è in partenza dal binario 7. Ferma. Napoli Piazza Leopardi, Napoli Mergellina, Piazza Amedeo, Napoli Montesanto, Piazza Cavour, Napoli Piazza Garibaldi, Napoli Gianturco. Il treno metropolitano 21-0-3-1 di Trenitalia, delle ore 5.54, per Napoli San Giovanni Barra, è in partenza dal binario 2. Ferma. Napoli Piazza Leopardi, Napoli Mergellina, Piazza Amedeo, Napoli Montesanto, Piazza Cavour, Napoli Piazza Garibaldi, Napoli Gianturco. Il treno regionale 21-2-6-2 di Trenitalia, delle ore 5.55, per Villa Literno, è in partenza dal binario 5. Ferma. Cavalleggeri Aosta, Bagnoli Agnano Terme, Pozzuoli Solfatara, Quarto Di Marano, Giuliano Qualiano. Cavalleggeri Aosta, Bagnoli Agnano Terme, Pozzuoli Solfatara, Quarto Di Marano, Village, San Giovanni, La raisee, godi, pozzuoli. Grazie a tutti.